C'era il mare in realtà è Marghera, ne seguo il tema, questa volta è questo specie di gioco di racconto del territorio tra la solita Treviso, su cui stucco le colline, la marca trevisiana e questa volta ci spostiamo un po' di più verso Mestre Marghera perché ho colto l'occasione del centenario di Porto Marghera perché nel 2017 ho cominciato a scrivere nel 2017, cento anni Porto Marghera, vorrei raccontare un po' questa vicenda industriale, quindi ci sono degli delitti attorno a questa questione e volevo fare una riflessione sul territorio come sempre, sulla bellezza di questa terra, sugli impatti industriali che questa terra subisce e sul bisogno sempre, secondo me, di ragionare tra benefici e malefici e sul fatto che se siamo intelligenti riusciamo a fare bene il nostro lavoro e fare, come dire, profitto senza dover rovinare il territorio. Il messaggio è abbiamo gli strumenti per poter fare bene il nostro lavoro. Quindi la sceneggiatura di un film è una paginetta, una paginetta streaming, zitta, quindi si va da qui a qui. Io da un lato, questo è il primo Stucchi dopo il film Finché c'è Prosecco, quindi dopo il volto, non solo il volto, il fisico di Battistò. Quindi è per la prima volta che scrivo una storia, come dire, avendo sotto gli occhi un personaggio che è una cosa veramente complicata perché quando uno immagina il proprio personaggio è una costruzione fantastica, insomma, in qualche modo è la tua mente, poi tu lo vedi di fronte, no? E quindi, insomma, sono rimasto per qualche mese un po' così. Dopo che il tema invece di Marghera è un tema che mi è caro perché la mia famiglia, io sono nato a San Manipiave, la mia famiglia, mio padre, i miei fratelli, i miei zii sono tutti quanti lavoratori di cantieri in Amali, quella che una volta si chiamava Breda, che è Fincantieri. Quindi io ho un debito di riconoscenza per il fatto che il loro lavoro mi ha permesso di andare, insomma, a studiare, a essere quello che sono. e il tema di Marghera è un tema che, insomma, ho provato a raccontare, che spero che qualche altro scrittore veneto prenda. È nato un po' dalla cronaca, poi ci sono chiaramente alcune cose di cronaca. Io, insomma, funziona un po' così, ho un'idea di fondo. Dopo che leggo tutta la cronaca, possibile e immaginabile, insomma, il gazzettino, la tribuna, eccetera, in magazzino, pastroccio, mi metto la mattina, non scrivo di sera, la mattina sono a scuola, quindi, insomma, se posso scrivo un primo pomeriggio e dopo di che io, come sempre, non ho, non so chi morirà, non so chi sarà l'assassino. Io devo scrivere pagina bianca. Io sono uno che ha bisogno della pagina bianca. La pagina dopo scoppia l'assassino e a volte non lo so. La veranda del locale era sospesa sul fiume e di fronte c'erano i laghetti riempiti dal sile, barche addormentate, salici, profili di case e stalle. L'intenzione, anche in questo caso, di fare un film? Allora, questa, insomma, c'è una buona notizia. Adesso che abbiamo contattato Battistone, l'ho visto martedì, si ragiona per farne una film che sono una certa di serialità televisiva, insomma, contatti con le televisioni. Battistone è molto innamorato del personaggio, vorrebbe continuare a farlo. Il regista è Padovani, siamo trovati con lui a Torino, abbiamo, insomma, chiacchierato e quindi, insomma, sì, bisognerà trovare le risorse perché è un progetto ambizioso, molto ambizioso. Lo è stato proseguo e anche questo ancora di più, perché si parla di fare cinque film consecutivamente, insomma, è una cosa importante. Io spero di sì perché il Veneto va raccontato, questo territorio va raccontato, è un bel territorio, qui storie ce ne sono, creatività c'è e credo che meriti, insomma, che nel panorama dei commissari italiani, del giallo italiano, ci sia uno spazio per la nostra terra che lo merita in maniera decisa.